Il borro di San Cipriano nell'ononima frazione cavrigliese necessita di pulizia dalla folta vegetazione qui cresciuta e quindi sono alla via i lavori per la rimozione di tutto quanto, oltre che non apprezzabile dal punto di vista visivo, rende anche più problematico il normale scorrere dell'acqua. Peraltro non essendo previsto purtroppo un abbassamento della temperatura né tantomeno ci sono nuvole all'orizzonte, nell'immediato questo intervento dovrebbe risolversi nel breve tempo. Abbiamo in questi giorni iniziato i lavori con il consorzio di bonifica del torrente di San Cipriano, anche perché nei mesi invernali avevamo pattuito il lavoro per il torrente Vachereccia, per la pulizia dell'alveo, dalla vegetazione e da molti alberi molto scomodi anche per gli abitanti, ebbene ora sono iniziati i lavori per il San Cipriano, da Pian di Potine fino ai confini con il comune di San Giovanni Valdarno anche questo corso d'acqua, uno dei più importanti del comune di Cavriglia, verrà interamente ripulito, quindi anche per gli abitanti sarà un vero e proprio sollievo e salutiamo con soddisfazione questo lavoro. Il cantiere è stato aperto in questi giorni e ovviamente durerà anche per le prossime settimane estive. L'area interessata dunque è totale, anche se giornalmente poi il cantiere si muoverà di pochi metri.